L'incremento premiale per le attestazioni sono dove c'è forse l'evitazione. Buongiorno, sono Sabino Figuarti, responsabile dell'Ufficio Legale dell'Unione. Stiamo tenendo un corso sul codice degli appalti dopo l'entrata in vigore dei coerettivi a un anno dal convegno che abbiamo fatto su questo argomento in cui avevamo appunto promesso un approfondimento più pratico.